Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla variante Divalico fare attenzione per personale su strada tra Firenzuola e Aglio in direzione Roma. Sulla A12 prestare attenzione per un incidente segnalato tra Massa e Carrara in direzione Genova. Su raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate senso unico alternato all'altezza del chilometro 27 nel comune di Borgo. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.